Tufryland Italia, la sede italiana del gruppo Tufryland, ente di certificazione internazionale che opera nel settore delle verifiche ispettive e delle prove di laboratorio in tutto il mondo. Tufryland ha riconoscimenti internazionali a casa madre a Cologna ed è presente in Italia con 5 sedi differenti. Quindi possiamo effettuare tutte le prove che sono richieste sia dal settore solare sia in altri settori come prodotti o automotive e rilasciare certificati relativi alle leggi cogenti, quindi regolamenti obbligatori in campo europeo, sia anche prove richieste dal cliente su capitolati del cliente. Grazie all'esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni, con le prove e le certificazioni per i singoli componenti del campo fotovoltaico, quindi cavi, junction box, connettori, moduli e inverter sia per uso solare sia wind inverter, quindi generatori olici, in occasione di Solar Expo siamo in grado di presentare il nuovo servizio di spezione degli impianti fotovoltaici. Siamo quindi adesso in grado di seguire il cliente in tutte le fasi della certificazione, dal singolo componente fino all'impianto completo. È chiaro che l'efficienza dell'impianto fotovoltaico e il relativo ritorno economico dell'investimento sono il valore aggiunto che Tufryland può mettere a disposizione degli investitori, degli studi di progettazione, degli installatori e degli operatori del settore, grazie appunto all'esperienza che è stata acquisita nel corso degli ultimi anni. Nel sito internet, Tufryland Italia, potete trovare tutte le informazioni relativamente ai corsi di formazione che noi forniamo in questo settore, l'elenco delle attività e dei servizi che noi offriamo, così come il database per la verifica dei certificati da noi emessi. Grazie. 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 Grazie.